Notte di controlli interforze in zona Saione ad Arezzo, dove è stato chiuso temporaneamente un locale etnico che vende sia prodotti tipici che prodotti generici da market. La struttura è stata perquisita da parte degli uomini della squadra volante di Arezzo guidati da Luigi Stanzione e dal personale della Polizia Municipale. Sul posto sono giunti anche gli ispettori della ASL e dopo il loro sopralluogo la struttura è stata chiusa temporaneamente. Al suo interno prodotti alimentari tra cui pesce essiccato e gamberetti tenuti senza l'adeguata documentazione relativa alla tracciabilità. Nell'ambito dell'ispezione i poliziotti hanno scoperto anche una persona, un trentenne nigeriano, irregolare sul territorio italiano. Sono state avviate le pratiche per l'espulsione del giovane. Infine, per quanto riguarda i controlli su strada, è stata sequestrata un'automobile. Il conducente la guidava senza che fosse assicurata. Al lavoro anche i carabinieri che hanno eseguito i controlli sui veicoli in transito nelle strade della prima periferia cittadina.